Cerca suo figlio in ogni chiesa. Una ricerca che inizia alle 4 di mattina, quando è ancora buio, di ogni venerdì santo, per le vie della città e termina alle porte della cattedrale. È il rituale della desolata che apre i riti pasquali della settimana Santa Teramo ed è un unicum in Abruzzo. Nonostante il freddo, questa processione notturna riscuote sempre una grande partecipazione di fedeli e anche quest'anno quasi mille persone hanno seguito la statua della Madonna con accanto il Vescovo Monsignor Lorenzo Leuzzi e il Sindaco Gianguido d'Alberto. Il rito della desolata rievoca la ricerca della madre angosciata del figlio Gesù condannato a morte. Questa cerca avviene per sette chiese di Teramo, che rappresentano anche i sette dolori di Maria addolorata. La processione è organizzata dall'arci confraternita dei cinturati. Il sacro corteo viene aperto da un confratello che regge una croce e linea recante i simboli della passione, a cui seguono i fedeli e principalmente le donne vestite completamente di nero. Tutti i pellegrini dietro la croce hanno in mano delle candele accese che rendono ancora più suggestivo il corteo. Altro appuntamento pasquale a Teramo è la processione storica pomeridiana del venerdì santo del Cristo morto. Il corteo esce dalla chiese dell'Annunziata, aperto dalla pesante croce linea con il panno bianco del Sudario. Segue il gonfalone azzurro dell'Annunziata con il crocifisso argenteo, portato come la croce dalla confraternita della cintola. Ecco quindi San Michele, simbolo del Santissimo Sacramento. La fede con il suo vaporoso mantello bianco e la croce tra le braccia, portata invece da donne elegantemente vestite di nero con fazzoletto bianco e velo sul viso. Si susseguono poi i simboli della passione, artistiche, statue e linee portate anch'esse dalle donne. I documenti più antichi datono la processione del Cristo morto di Teramo al Cinquecento, ma è facile immaginare che si tratti di un rito medioevale come quello della desolata.